Qual è l'importanza di questo nuovo laboratorio? L'importanza di questo laboratorio per noi, io rappresento l'International Enerwill, che è la più grande associazione femminile di service al mondo, quale governatrice del distretto 209, comprende le serie di regioni dell'Italia centrale. Secondo me, oltre al ricordo di una donna straordinaria, come è stata Narita Struzzi, una donna di grande generosità e sincerità, secondo me nasconde un messaggio sociale importante. L'attenzione del privato, di noi donne, perché la nostra è un'associazione femminile, ha supporto al sostegno di questi ragazzi, di ragazzi che frequentano scuole per poi entrare nel mondo del lavoro. Perché questi ragazzi vanno sostenuti, divagato anche dei punti di riferimento, vanno dati loro. Cioè sapere che noi esistiamo e siamo in grado di supportarli e premiarli. Perché un altro service, oltre a questo, che ora stiamo appunto celebrando, quindi l'inaugurazione del laboratorio di moda, come Enerwill, noi abbiamo destinato due borse di studio alle migliori studentesse di questo anno 2015-17. Due borse del valore di 1.500 euro rupo, proprio per premiare la meritocrazia. Cioè ragazzi, noi ci siamo, lavorate, studiate e entrate nel mondo del lavoro con la consapevolezza e con la dignità di sapere quello che andate a fare, non con l'approssimazione.